Musica Mercoledì 21 febbraio 2018 Buongiorno, bentrovati. Appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei giornali. Oggi ne dico, l'apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Il centro, l'edizione di Pescara. Su tutte le edizioni c'è comunque il titolo d'apertura che riguarda questo fatto di cronaca accaduto in una scuola di Giulianova. Sfreggiato a scuola con un coltello, 18enne, ferisce al viso un compagno per uno sgambetto. È stato denunciato dalle forze dell'ordine. Vediamo a Pescara, centro pagina, l'ex corridoio verde nel degrado. Vedete questi murales anche nelle pensiline di quella che un domani dovrebbe essere la strada per la metropolitana leggera. La strada parco in balia di vandali e imbrattatori. E poi vediamo anche nelle cronache, io rapinata dallo stesso bandito due volte, parafarmacia a Pescara, parla la titolare, sempre Pescara, le ferrovie, 5 milioni per migliorare la stazione centrale di Pescara. E poi Popoli, granguizza, licenza scaduta, SOS del sindaco di Popoli. E poi ancora cronaca, paura a Loreto Aprutino, ragazza mossa al volto dal Rottweiler, ricoverata in ospedale, operazione per saturare il labbro. Vediamo anche altri titoli, bussi bloccato l'iter della mega bonifica. E poi in alto, un altro titolo che riguarda la nostra regione, la corsa ai centri commerciali, megalo 2, verdetto ribaltato, annullati i divieti a costruire. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Chieti, Lanciano, Vasto, fotonotizia in prima pagina. Chieti non dimentica il poliziotto, bel vedere per Di Michelangelo, vittima di Rigopiano. E poi ancora Chieti, vigili in strada, controlli con la telecamera, Torrevecchia Teatina, falsi incidenti, vittima in castra. Il truffatore ad Atessa, onda da record, a un passo dalle 100 mila moto. Lanciano ricatta l'amante per soldi a processo, 32enne, minaccia l'imprenditore di rivelare la loro relazione alla moglie. Vediamo anche l'edizione di Teramo del centro, ovviamente ancora maggiore spazio a quanto accaduto a Giulianova. Vedete anche la foto, il corridoio della scuola e poi nella foto piccola a centropagina il coltello usato dal feritore. E poi Teatro Romano, tutti contro la copertura a Teramo. Tortoletto, tasse, un milione e mezzo recuperati con un accordo. Poatri, D'Alfonso contestato per Rigopiano dai parenti delle vittime. Poi questa triste storia che arriva da Teramo, trovato morto in casa dopo due mesi. L'anziano viveva da solo, un primo esame esclude. Segni di violenza. Siamo alla prima pagina del centro che riguarda l'Aquila, Avezzano e Sulmona. Si parla di politica in primo piano. Ad Avezzano, De Angelis, sindaco, cerca nuovi alleati, annuncia l'addio ma gli scenari sono tuttora ancora aperti. Poi vedremo anche più avanti un servizio proprio sulla questione che riguarda il comune di Avezzano. Poi a centropagina il concerto nella Basilica. L'Aquila, la banda dei carabinieri, conquista Collemaggio. Ancora l'Aquila, sosta selvaggia in centro, scattano le multe. Sulmona arrivano fondi per il patrimonio culturale. Ancora Sulmona, SOS Sicurezza, la task force. Oggi dal prefetto. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero. Anche in questo caso l'apertura è al fatto di cronaca accaduto. Ieri mattina Giulianova, studente sfregiato a scuola, reagisce ad uno sgambetto estraendo un coltellino con cui perfora la guancia al rivale. La lama fa saltare anche un dente al ferito. L'altro ragazzo dall'ITIS alla caserma è stato denunciato. Vediamo anche gli altri titoli. Gioventù bruciata. Maxi Blitz dei carabinieri Montesilvano paga la droga del figlio. Con la post-pay ieri operazione proprio dei carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Vincenzo Falce, che hanno eseguito 13 misure cautelari proprio in un blitz antidroga. Anche in questo caso più avanti vedremo il servizio. Trasporto in aereo. Bambina si salva dal soffocamento. Pescara l'ambulanza con l'anionata a bordo portata al gasilini di Genova da un C-130 dell'aeronautica militare. E poi Natura, Api e Orsi per recuperare le zone colpite dagli incendi. Vedete questo titolo di spalla. E poi in basso, anche sul messaggero, si parla della vicenda politica del comune di Avezzano. Il sindaco De Angelis si dimette o comunque annuncia le dimissioni per le prossime ore. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano. La città accoltellato dal compagno di scuola. Anche qui titolo di apertura su quanto accaduto a Giulianova ieri mattina. E poi in alto, Roseto degli Abruzzi, Pontile, arriva il milione della regione. Poi D'Alfonso contestato per Rigopiano, l'incontro che si è tenuto ad Atri. E poi questa foto a centro pagina. Anch'io sono italiana, parla la studentessa di colore, respinta dalle coinquiline. E poi Cellino ha provato il ponte sul Vomano, dichiarata la pubblica utilità dei terreni di Stampalone. E poi vediamo altri titoli da Teramo. Teatro Romano, raffica di critiche contro l'ennesima discoteca in centro storico. E poi cocaina per Montesilvano, due arresti. Questa operazione dei carabinieri di Montesilvano, di cui parlavamo qualche istante fa, ha toccato, anche se in maniera più marginale, anche Teramo. Abbiamo visto dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Ora, come sempre, passiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Come di consueto iniziamo con il Corriere della Sera. Vedete la foto in alto, bombe assalti nella trincea del fronte kurdo. Questa guerra che continua purtroppo a fare anche vittime. Vedete queste immagini davvero eloquenti con le persone che fuggono dalle macerie. Poi la politica, centro pagina, perché si avvicina a grandi passi l'appuntamento elettorale del 4 marzo. Berlusconi apre ai ribelli del Movimento 5 Stelle. Accogliamo chi accetta il programma. Prima del voto indicherò il premier. E poi un'altra notizia che riguarda la politica, in questo caso la politica romana. Raggi, accusa archiviata. L'inchiesta era quella che riguardava la nomina di Romeo. Un'altra notizia di politica e di cronaca nello stesso fatto. Agguato a Palermo al leader di Forza Nuova, legato e picchiato in strada. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Giorno di guerra, Erdogan Assala, Siria fa paura al mondo. Ne parlavamo anche con il titolo e la foto del Corriere della Sera. Gouta, strage di civili, centinaia di morti, tra cui molti bambini. Voto, larga intesa e più lontane. I dubbi dei ministri, PD su un'intesa con Forza Italia. Berlusconi non ci conviene, dice fare l'accordo. Solo Correnzi, l'ex cavaliere, vuole reclutare gli espulsi del Movimento 5 Stelle. Nell'inchiesta rifiuti in Campania si dimette un altro manager. E poi, raggi archiviata, nessun illecito su Romeo. Adesso basta fango, dice il sindaco. Resta il processo Marra, da come leggiamo qui, da Repubblica. E anche su Repubblica ritroviamo questa notizia che arriva da Palermo. Legato e picchiato il segretario di Forza Nuova. Siamo pronti alla vendetta, l'angressione nel centro della città. Andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano. Gomorra, Tangendi e Monnezza, le ecoballe di Renzi e De Luca. Questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano. E poi anche sul Fatto Quotidiano, nomina di Romeo, raggi trasparente. Il Gip archivia e critica i PM. Andiamo a vedere anche il messaggero, la pagina nazionale. Berlusconi offerta gli espulsi del Movimento 5 Stelle. Poi venti di guerra fra Turchia e Siria. Battaglia per l'enclave curda di Afrin. Vediamo anche Libero. Via dalla pazza Italia. Ondata di aziende che espatriano troppe tasse. Titola Libero. E poi sole 24 ore. L'Unione Europea apre il dossier Embraco. Proposta italiana. Deroghi sui fondi in singoli casi contro la fuga di imprese all'est. Calenda incontra il commissario Vestager. Saranno verificati gli aiuti concessi all'azienda dalla Slovacchia. E poi lavoro. In Europa mancano due milioni di specialist. E dunque alla ricerca di persone con professionalità nei settori auto, costruzioni e trasporti. Dal sole 24 ore al tempo di Roma arrivano i mostri. Follia antifascista. Paura per il corteo di sabato a Roma. A Palermo militante di Forza Nuova legato e picchiato. E poi in basso, anche sul tempo quotidiano romano, c'è la notizia che riguarda il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Assolta. Ora un altro processo. E poi basta, scrive il tempo. Siamo alla stampa di Torino. Mattarella mosse per evitare il voto bis. Non scontato l'incarico al primo partito, ma possibile alla coalizione. Creavrà più seggi. E poi, vedete anche sul quotidiano torinese, bombe su Afrin. Adesso in Siria, Assad ed Erdogan vanno alla guerra. Il mattino di Napoli, rifiuti, dimissioni e spese folli. Dopo la diffusione di un video, azzerati i vertici della partecipata regionale. De Luca, querela Di Maio, lascia anche il presidente della SMA. Spari di scontrini per 200 mila euro. E poi la politica. Berlusconi appello agli espulsi del Movimento 5 Stelle. No ai comizi. Al Sud Italia. Andiamo ancora avanti. Il giornale. Gentiloni si riprende gli 80 euro degli insegnanti. Altro che aumenti, in busta paga c'è chi ha perso 300 euro. E poi anche sul giornale ritroviamo la notizia che arriva da Palermo. Legato e pestato per strada è segretario di Forza Nuova. Siamo al quotidiano La Verità. Colpo di mano del PD sui servizi segreti. Convocato d'urgenza il Copasi, erminiti d'intesa con Gentiloni. Vuol prorogare di un anno i capi degli 007. L'ultima di una serie di manovre per legare le mani al prossimo governo. Il manifesto, grasso a lezione da Corbyn, incontro a Londra. Vedete la foto. E poi fine guerra mai. Si parla del conflitto tra Siria e Turchia. La oragine del conflitto siriano si allarga. I combattenti pro Assad entrano ad Afrin, accolti dai kurdi. Ma Ancara non cede. E li bombarda, leggiamo qui anche dal manifesto, il secolo d'Italia. Fuori di testa il titolo riguarda proprio la questione di questo nuovo focolaio di guerra tra Siria e Turchia. Lasciamo i titoli e le prime pagine dei quotidiani nazionali. Torniamo al centro, a pagina 2. Si parla di pensioni. Pensionati, il conto corrente è gratuito. Nessuna spesa se il reddito non è alto. Ecco come si ottiene. E in questo articolo si parla proprio di quei pensionati che hanno diritto al conto corrente gratuito. E poi auto revisionate. Spesi 69 milioni a guidare la classifica in Abruzzo e Chieti. seguita dall'Aquila e da Teramo. La corsa ai centri commerciali. Megalo 2. Annullato il divieto a costruire. Chieti il genio civile dà il via libera. La megastruttura. Il progettista Merlino vince la battaglia contro il WWF e i 5 Stelle. E poi Regione. Riunione d'urgenza per il maltempo. Questa è una notizia importante perché le previsioni parlano di peggioramento nelle prossime ore. Soprattutto nel weekend della prossima settimana. Da lunedì previste abbondanti nevicate nella nostra regione anche a quote basse e fino sulla costa. E poi al via il corso per diventare guardie volontarie del WWF. In basso bonifica bussi. Il Ministero sospende l'iter. Scoppia il nuovo caso sulla discarica. L'Arta ha chiesto nuove analisi. De Sanctis del Forum dell'Acqua si rivolge alla Procura. Un titolo prima di passare alle cronache dalle province che riguarda Roma. Raggi esulta sui social via un anno di fango. Archiviato il caso Romeo. E siamo alle notizie che riguardano le nostre province e la Regione. Partiamo dalla cronaca regionale verso il voto del 4 marzo. Si avvicina la scadenza elettorale molto attesa. E vediamo dunque quali sono i titoli principali. Niente big per D'Alfonso ma 40 milioni dal Cipe. Questo è il titolo di apertura della cronaca regionale. L'Aggiunta approva infatti la delibera per i finanziamenti di sette opere strategiche. Si va dai porti di Pescara, Francavillo e Roseto alla Ferrovia fino agli impianti di sci. E poi Febbo va contro le parate elettorali e scrive a prefetto e a Anas, Mauro Febbo, di Forza Italia. E poi in serata evita la protesta. I parenti delle vittime di Rigopiano aspettano il governatore ad Atri. Vediamo anche gli appuntamenti, alcune delle notizie che riguardano la politica. Perché oggi a Pescara arriverà Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, alle 17 all'auditorium Flaiano. E poi conferenza stampa di D'Alessandro questa mattina a Lanciano. E poi incontro di coalizione del centrodestra a Mosciano Sant'Angelo. Dunque tanti appuntamenti per la politica a poco più di dieci giorni dal 4 marzo. Siamo a Pescara, la cronaca rapinata due volte dallo stesso bandito, la titolare della parafarmacia minacciata di morte e derubata a distanza di 6 giorni da un giovane avvolto scoperto. Paura a via Venezia, dunque in pieno centro. Sette colpi subiti dalla tabaccaia, dalla tabaccheria che si trova in via del santuario. E poi strada parco, preda di vandali e writers, pensiline distrutte con scritte e l'asfalto. E' deformato dalle radici. Vedete questa pagina, queste foto nel reportage del centro sulla strada parco. E poi ancora foto su quella che doveva essere, dovrebbe essere uno dei gioielli di Pescara. E poi in basso quella festa che salutò l'ultimo treno. Trent'anni fa l'addio al tracciato ferroviario. Ma la modernità non è mai arrivata. L'ultimo treno della linea Montesilvano-Pescara. Vedete questa foto storica con questa motrice di tanti e tanti anni fa. Cronaca ancora da Pescara. Via Paulini, anziana investita sulle strisce. Donna ricoverata e giudicata guaribile in un mese. E poi venerdì incontro all'Aurum sulle normative per l'uso dei droni. Se ne è parlato ieri in una conferenza stampa in comune a Pescara. Ancora Pescara. Il piano di rilancio. Stazione 5 milioni per atrio e sottopassi. Ferrovie svela il progetto di restyling dello scalo pescarese. E replica sui locali sfitti. Siamo pronti ad incontrare il comune. E poi cerimonia in comune a Pescara. Appartamento a fuoco, incomio ai poliziotti intervenuti. Molti forse ricorderanno l'incendio in un appartamento di una palazzina proprio in Piazza della Rinascita. Lo scorso 2 dicembre il pronto intervento di polizia e poi dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Riuscirono ad evitare problemi per le persone che si trovavano all'interno di questo appartamento. Andato a fuoco. Siamo a Loreto Aprutino. Ragazza morsa al volto dal suo cane. La 26enne voleva coccolare il rottweiler che stava dormendo. La corsa in ospedale per saturare il labbro inferiore. Poi l'aeronautica soccorre bimba di 4 mesi trasportata all'ospedale Gaslini di Genova. Siamo a Montesilvano. Operazione dei carabinieri in via Rimini. I clienti fanno arrestare 13 spacciatori. Vedete la notizia in apertura. Decisiva anche la collaborazione dei genitori di un 15enne che per la cocaina aveva accumulato un debito di 500 euro. La battaglia dell'assessore, l'assessore del comune di Montesilvano, Emanuela Musa, fuori dalle case popolari, dice chi le usa per i suoi traffici. Allora possiamo andare a vedere il servizio proprio su questa conferenza stampa tenuta ieri presso il comando provinciale dell'arma a Pescara per illustrare questa operazione antidroga di Montesilvano. 13 misure cautelari in carcere e ai domiciliari nei confronti di 10 cittadini italiani, 2 albanesi ed un macedone, sono state eseguite dalle prime ore di oggi in una operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Vincenzo Falce e che hanno stroncato una fiorente attività di spaccio di droga che era radicata in particolare nel popolare quartiere di Viale Rimini a Montesilvano. Siamo partiti da un controllo minuzioso del territorio che ci ha consentito di monitorare alcuni assuntori di sostanze stupefacenti dal controllo dei quali poi siamo arrivati a nostra volta agli spacciatori. Sono microcellule interessate da questo provvedimento cautelare e come dicevamo non sono collegate tra loro ma grazie alla rete di intercettazione che era abbastanza vasta sul territorio siamo riusciti a captare poi le conversazioni con tutti gli spacciatori. A mio avviso la città di Montesilvano è una bella realtà di questa bella costa adreatica del centro Italia. Chiaramente le attivazioni di interesse operativo sono maggiori e sono connesse alla proporzione dei residenti, sono connesse all'interesse che Montesilvano riveste a livello regionale, sono connesse alla circostanza che Montesilvano è il primo distretto turistico della legione e forse del centro Italia. Abbiamo tantissime attività commerciali quindi è un territorio che per l'arma dei carabinieri offre ottime potenzialità. Però l'interesse è sempre altissimo, l'impegno è sempre massimo. Ancora a proposito di questa operazione dei carabinieri, ha parlato anche ieri in conferenza stampa, l'avete visto inquadrato nel servizio, il comandante provinciale dell'arma, colonnello Riscaldati. La droga, problema drammatico in città, gli acquirenti, ha detto il colonnello Riscaldati, arrivano anche da fuori, arresti importanti per la comunità. Andiamo avanti, vediamo altre notizie dalla provincia di Pescara. Ancora Montesilvano, il pala congressi, meglio ai privati, lo dice il presidente della commissione comunale e lavori pubblici di Montesilvano, Mauro Orsini. Bivacchia Lapineta, terzo sgombero in cinque giorni, sempre a Montesilvano, mentre spostandoci a Pianella, piazza di Castellana, via al progetto di riqualificazione. In basso, ancora Pianella, Modavi partito il terzo corso per gli aspiranti volontari. Tornando invece a Montesilvano, si parla di un marcio a piede rotto e di scolari a rischio. A Montesilvano Colle, Di Carlo, del Movimento 5 Stelle, dice intervento di riparazione atteso da quattro mesi. Siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara, Francavilla, un milione per finire il porto turistico e poi lezioni di legalità, sempre nella cittadina adriatica, con la Guardia di Finanza. San Giovanni Teatino, festa per i 103 anni di nonna Anna. Proseguiamo la pagina dell'area vestina e dell'Alta Val Pescara. Partiamo da Popoli, concessione scaduta, sindaco e faicis, allarme granguizza, comune rappresentanti dei lavoratori preoccupati per i ritardi della regione sulla ricenza di estrazione dell'acqua. E appenne studenti in visita all'archivio storico. E poi a Caramanico Terme, copertura provvisoria sulla cattedrale, intervento da 300 mila euro per mettere in sicurezza il tetto della navata centrale. In basso appenne il PD, risponde a Semproni, basta piagnistei. Caramanico Terme, rifiuti un consorzio di quattro comuni, raccolta porta a porta da metà maggio alla Sieco, differenziata al via a Caramanico Terme, a Salle, ad Abbateggio e a Santa Eufemia, a Maiella. Siamo alla pagina di Chieti, del centro, al telefono la truffa del falso incidente, inchiesta a Torrevecchia Teatina, sui cellulari degli anziani, minacce e tentativi di estorsione. Finti investigatori in azione a Chieti. E poi a Chieti, Scalo, ubriaca la guida, studentessa sbanda e abbatte i lampioni, patente ritirata. E poi la cronaca giudiziaria, abusi sui piccoli atleti, chiesto il processo. In basso, Belvedere intitolato a Dino di Michelangelo, lo slargo di via Dragona al Sacro Cuore, dedicato al poliziotto morto nella tragedia di Rigopiano. Lasciamo questa pagina, andiamo a vedere la prossima che riguarda la cronaca della provincia. Da Chieti ci spostiamo nell'area frentana a Lanciano, tentata estorsione, ricatta l'amante per soldi, finisce a processo, abbasto, botte e insulti alla compagna, processo, un 47enne arrestato. E poi ad Atessa, Honda, 30.000 moto in più in sei anni, lo stabilimento di Atessa. Primavera arriverà a sformare 96.000 scooter, Wilm, cauto, ottimismo. Pagina di Teramo del centro, paura liti di Giulianova, coltella al viso il compagno di scuola, un 18enne Giuliese Sferra, un fendente avvolto ad un 17enne marocchino che lo aveva sgambettato, è stato denunciato per lesioni aggravate. Il preside della scuola dice, al di là delle sanzioni, bisogna capire oggi la riunione del Consiglio d'Istituto per adottare provvedimenti. Il dirigente dice, nessuno ci ha segnalato screzzi. Allora possiamo andare a vedere il servizio di Alfredo Primante su questa vicenda. Colpito al volto da un compagno di scuola al culmine di una lite nata tra i corridoi dell'ITIS Cerulli di Giulianova. È accaduto questa mattina, attorno alle 8.15, poco prima dell'ingresso in classe. La vittima è uno studente di 17 anni di Mosciano, originario del Marocco, che ha riportato una ferita alla guancia sinistra e la frattura del molare, con una prognosi che i medici del reparto maxillo facciale dell'ospedale di Teramo hanno stimato superiore ai 30 giorni. A vibrare il fendente è stato un compagno di scuola, un 18enne giuliese, JM, le sue iniziali, che al momento è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di coltello del genere proibito. I due studenti si sarebbero affrontati nell'atrio dell'Istituto Professionale. Da una prima ricostruzione, figlia anche della visione delle telecamere di videosorveglianza, pare che lo studente ferito abbia sgambettato il 18enne. A quel punto sarebbe scoppiata la rissa con il giuliese, che ha estratto il coltello ed ha ferito il compagno di scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giulianova, che hanno sequestrato il coltello a Serramanico e accompagnato in caserma l'aggressore, che in attesa delle decisioni del magistrato di turno è stato denunciato. Andiamo ancora avanti, restiamo un attimo su questa vicenda, perché ci sono le dichiarazioni del sindaco di Giulianova, Mastro Mauro, che ha telefonato all'aggredito, violenza da condannare, ha detto il primo cittadino di Giulianova. A Teramo, anziano, muore solo in casa, ritrovato dopo due mesi, la scoperta fatta dei vigili urbani dopo una segnalazione, un primo esame esclude segni di violenza, oggi si svolgerà l'autopsia. E poi ancora a Teramo, sisma, 900 mila euro per i lavori su due monumenti danneggiati. E poi lo psicologo Orfanelli, tornando a quanto accaduto a Giulianova, dice che servono più sportelli di ascolto, soprattutto per i giovani. Siamo ad Atri, il caso delle elementari, i nostri figli in una scuola sventrata, il comitato dei genitori all'attacco sui lavori fermi dopo il cambio di impresa, amministratori troppo presi dalle elezioni. E poi a Silvi, il comune, tassa di soggiorno per avere più soldi in cassa, delibera contestata, scoppia la polemica. A Pineto, a 89 anni, cuce e insegna ai giovani il decano degli artigiani, Silvio Ripari, tiene aperta la sua sartoria e fa progetti con le scuole. Siamo ad Avezzano, la crisi in comune, De Angelis di missionario, cerca alleati per la salvezza, il sindaco annuncia l'addio, ma lascia aperti i spiragli, vertice di 15 consiglieri. Andiamo a vedere il servizio, proprio sulla crisi in comune a Avezzano. Stiamo procedendo ad effettuare le ultime attività amministrative, tecniche amministrative e la prossima settimana, nei prossimi giorni, formalizzerò queste dimissioni. Ad oggi non ho la maggioranza. Le dimissioni devono essere solo firmate. Gabriele De Angelis, il giorno dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha dato ragione al sindaco uscente Gianni Di Pangrazio, assegnandogli la maggioranza in Consiglio Comunale, come aveva già fatto il Tarabruzzo in precedenza, annuncia di voler lasciare la guida del comune, impossibilitato, dice, ad espletare il mandato ricevuto dai cittadini. L'attuale sindaco, sostenuto dalla maggioranza di centrodestra, è vittima della cosiddetta anatrazoppa, fenomeno che accade quando si vince il ballottaggio ma non si riesce ad ottenere il premio di maggioranza per effetto dei voti ottenuti dalla coalizione nel primo turno. Un paradosso che però lascia il comune senza guida, affidandolo al commissario prefettizio. Noi dobbiamo lavorare per i cittadini di Avezzano e ci hanno votato per fare delle cose che stiamo facendo. Non potrei mai tradire né i cittadini né la mia città. Ora il centrosinistra ha 13 consiglieri e il centrodestra 9. Giustizia è fatta, dice Di Pangrazio, che sottolinea come sia stata ripristinata la volontà popolare con la vittoria del programma scelto dalla maggioranza dei cittadini di Avezzano. Abbiamo parlato più volte, abbiamo aperto le porte più volte al De Angelis, ma mi pare che lui continua a vivere sulla luna e continua invece a pensare che può esserci qualche ingiugio. Non ci saranno ingiugi, alla luce del sole si può fare tutto nell'interesse della città di Avezzano. Altrimenti è meglio tornare alle urne se questo vuole De Angelis, noi siamo pronti anche a tornare alle urne. Restiamo su questa vicenda, nella parte bassa della pagina. Consiglieri a casa per votare a primavera, questa è la proposta dei rappresentanti di Fratelli d'Italia. Impedire, dicono, il possibile anno di commissariamento. Reazioni nel centro-destra, Forza Italia chiama l'Udc, un'operazione di coerenza. Pagano, coordinatore regionale dei berlusconiani, il 4 marzo. Corriamo insieme con noi per un segnale agli elettori. De Angelis in ascesa, dice Pagano, nella politica abruzzese. E poi, verdecchia del Partito Democratico, la Corte dei Conti verifichi le spese legali. Prima polemiche dopo la sentenza. Andiamo ancora avanti, siamo all'Aquila. La ricostruzione nel centro storico, cantieri multe per i parcheggi selvaggi. E poi, pratiche lente, una task force al genio civile. Riunione in regione. E poi, effetto Avezzano, anche all'Aquila. Il fronte PD ci crede, il riconteggio delle schede riprende dopo le elezioni politiche. C'è fiducia nel centro-sinistra Aquilano. Siamo arrivati allo sport, allora possiamo fermarci per qualche attimo. Andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore. Poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Siamo alle pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Nomination nell'urna, si parla di elezioni, la carica degli altri, tutti partitini in cerca di gloria. Dieci volte meglio a valore umano, al potere al popolo, a Italia, agli italiani. PD tra gli alleati, la lista insieme. Il centro-destra appoggiato da ala. Vedete un facsimile della scheda. Poi in basso si parla di fondi, di infrastrutture, di trasporti, ferrovie, porti turistici, piste da sci, stanziati 40 milioni per 7 interventi. Poi Pescara, missione da film per salvare una bimba, un C-130 dell'Aeronautica Militare, trasportato dal Gaslini di Genova, medici e ambulanza, prelevata una neonata di 8 mesi. Poi i poliziotti eroi, premiati dal sindaco, intervennero nell'incendio del 2 dicembre in una palazzina di piazza Salotto a Pescara. Entra in carica il procuratore aggiunto. La dottoressa Narita Mantini completa il vertice dell'ufficio, una toga in prima linea, nei casi più scottanti. Vedete anche la foto a corredo dell'articolo. Siamo alla pagina che riguarda Pescara. Ancora Pescara e Montesilvano. I genitori di un 15enne fanno scoprire ai carabinieri di Montesilvano una fitta rete di spacciatori, 13 arresti. Abbiamo visto il servizio degidio, problema grave che la politica non affronta. E poi supermarket nel parcheggio per la regione, si può fare i nodi urbanistici. E poi Tremonti, la bonifica si allontana, il Ministero dell'Ambiente sospende la conferenza decisoria per la discarica. A fine marzo l'arte chiede sei mesi di proroga. E poi Pineta, terzo sgombero di migranti in una settimana a Montesilvano. E poi la sanità, demenze, sono 1.400 i pazienti in cura, diagnosi precoce, nuovi farmaci, queste le armi. E poi strade ad ostacoli in via Monte di Campli, lavori fino a metà marzo. Siamo alla pagina dell'Aquila del messaggero, centro invaso da auto e mezzi, giro di vite da parte del comune. E poi la ricostruzione, 200 cantieri bloccati in arrivo ai commissari, in basso verso il voto, candidati e CNA, confronto soft per pochi intimi. Ancora l'Aquila, Carabinieri, la gratitudine della città, il Consiglio Comunale ha tributato all'arma, la cittadinanza onoraria anche per il grande impegno profuso in occasione del terremoto. E la banda dell'arma dei Carabinieri a Colle Maggio che è emozione. Tecnologia, Aquilana, la missione su Marte, progettato, realizzato da Elital Elettronica, il sistema di movimentazione e trasporto del rover. Siamo alla pagina di Avezzano Sulmona, De Angelis si dimette, sistemo le carte, poi tolgo il disturbo. Aula consigliare, grimite e applausi, consensi equamente divisi, c'è chi non condivide, chi osanna il primo cittadino. Abbiamo visto il servizio pochi istanti fa. E poi Prezza, scoperta un'altra officina abusiva a Capistrello, per non essere rimpatriata, si finge in cinta. In basso, a Sulmona, Antonella Di Nino sul processo al padre, caduta l'accusa più infamante. Ora appello. E poi a Magliano De Marsi, Velino, inaugurato il museo più green del centro Italia. Chieti, facciamo sesso, ti lascio in panchina e non giochi più, così l'allenatore di baseball minacciava un suo piccolo allievo. Il PM ha processo, accusa di violenza sessuale aggravata su 9 baby atleti. Leggiamo qui nell'articolo di apertura della cronaca di Chieti del messaggero. E poi l'inchiesta, nomine Asle, politici in aula per smontare le accuse del direttore generale. E poi maxi controlli della stradale, ubriaca quattro volte oltre il limite, si schianta con l'auto. E poi botte in centro a Chieti, ragazzina aggredita in piazza San Giustino. Indagini in corso, siamo a Lanciano. Aspetto un figlio da te, donna a processo, per tentata estorsione. Avvasto la presidenza del piano, scatena polemiche in consiglio comunale. E poi ancora a fondo pagina, si è con la passione del volley e un volano per l'economia, in questo caso per l'economia di Ortona. Alberghi, corsi, trasferte, alloggi, l'azienda sponsor e la società di A2 sono una risorsa per la città di Ortona. Teramo, sì all'inclusione, l'Ateneo combatte il razzismo, studentessa di colore, respinta dalle coinquiline, il rettore d'amico. Combattiamo questi episodi, spazio e progetti di integrazione, pure immensa, con il carcere, menu speciali per ogni religione. E poi, la novità che riguarda le auto elettriche, in arrivo le colonne per le ricariche. La cronaca, Castronio, anziano trovato morto in casa dopo due mesi. Poi non portarono la droga, assolti due giuliesi dal tribunale. Gran Sasso, la denuncia, acqua potabile a scarico, gli ambientalisti e l'esposto sul caso di clorometano. Cosa abbiamo bevuto? Finora questa la domanda degli ambientalisti che hanno fatto questa denuncia. Andiamo ancora avanti, siamo, chiedo scusa, alla pagina di Giulianova. L'episodio di ieri nella scuola di Giulianova sfregia con una coltellata il bullo a scuola. Abbiamo visto il servizio, i compagni dell'Istituto Tecno-Industriale lo tormentava sempre. Sabato scorso, scazzottata davanti alla stazione. E poi a Giulianova, cambiando argomento, porto finanziati nuovi interventi. Colonnella, 3 milioni di euro per ricostruire le scuole primaria e dell'infanzia. Malore per Rassicci, ricoverato in ospedale al Badriatica, preoccupazione per l'ex vicepresidente della provincia. Non ha perso conoscenza. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere le pagine interne del quotidiano La Città. Abruzzo, Anatra Zoppa, si dimette, ritroviamo anche qui la questione del comune di Avezzano, si dimette il sindaco, Gabriele De Angelis pronto a formalizzare la decisione. Non posso mantenere il patto con La Città. Chieti, chiesto il processo per l'allenatore che abusava dei suoi allievi. E poi cronaca, 15enne picchiata in centro da una coetanea per la vittima, un trauma cranico, indaga la squadra mobile della questura di Chieti. E poi ambiente, api e orsi per il recupero del morrone dopo gli incendi. Bullismo a Giulianova, coltellato al volto dal compagno di scuola, subisce uno sgambetto sul corridoio, tira fuori un coltello dallo zaino e colpisce il bullo alla guancia. Il preside, al di là del sanzionare, dice bisogna capire il sindaco Mastromauro, fatto gravissimo, blackout tra ragazzi, famiglie ed educatori. Fallegname, trovato morto in casa dopo due mesi, dramma della solitudine a Castrogno, frazione di Teramo. Luigi Di Giannatale, 85 anni, da giorni non rispondeva al campanello. Cambiamo argomento, giudiziaria, Brucchia processo per una caduta sul lungo fiume, ciclista sfregiato da un incidente. E poi da Teramo rifornivano di coca Montesilvano due fratelli albanesi in manette. L'operazione dei carabinieri della compagnia di Montesilvano, abbiamo visto prima il servizio. E poi Teramo, falso caffè biologico, due denunce per frode da parte dei carabinieri del NAS Abruzzo. E poi basta discoteche sull'antica Interamnia, comitati, associazioni e cittadini, contrari al progetto di copertura del teatro. Romano, elaborato da Bellomo. Proseguiamo. Le coinquiline si sono rifiutate di conoscermi. Dopo l'Unione Universitaria parla Aisha, la ragazza di colore respinta dalle studentesse universitarie di Colleparco. In basso la cronaca giudiziaria. Ieri a Roma il processo nei confronti del musicista Terramano, che era l'ISA, processo per Melozi. Rottamazione delle cartelle anche a Teramo. Il commissario Pizzi sopperisce ancora una volta alle decisioni non prese dall'ex amministrazione. E poi verso il voto, candidati sindaci del PD, spunta l'idea Franco Di Teodoro. Nel centro-sinistra circola il nome dell'Avvocato, ma Minosse e Mariani tagliano corto. Andiamo ancora avanti. Per arrivare a un'altra pagina del quotidiano La Città, la pagina che riguarda la provincia. Acqua sprecata nel cuore del Gran Sasso, questo è il titolo di pagina 13. I 100 litri captati nei pressi dei laboratori, messi a scarico da diversi mesi per questioni di sicurezza. E poi turismo, 4 milioni per eliminare i pericoli lungo la strada dei prati. In basso lavoro, mercante riaccende i riflettori sul prosciuttificio di Colledara. Cellino approva il progetto del ponte sul Vomano. Siamo ancora in provincia di Teramo, ultimo passaggio lunedì in Consiglio Comunale con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In basso, Isola del Gran Sasso, servizio tuo a rischio per il cantiere della scuola. Possenti critica gli amministratori per non aver trovato un parcheggio alternativo al bus. Vasele Castellana, problemi alla telefonia risolti. Grazie al Corecom. Nella foto vedete il presidente del Corecom Abruzzo, Filippo Lucci, con gli amministratori di Valle Castellana. Siamo ad Alba Adriatica, dunque Val Vibrata. Il bilancio di Alba arriva in Consiglio. Martedì in Assise l'ultimo preventivo dell'amministrazione Piccioni-Santo Mero. Il sindaco apre i lavori alla Chiesa e risponde alle accuse. Ci spostiamo a Poggio Morello. Dopo l'allarme lanciato dai cittadini sullo stato dello stabilimento dismesso, il Comune ordina la bonifica della bomba ecologica. In basso a Corropoli inizia il restauro dell'opera danneggiata dal sisma. E poi in ereto convegno del PD dedicato ai giovani elettori. Siamo alla pagina di Giulianova. Trasporti. La Cameli snobba la proposta sul progetto Scolabus. E poi lavori al porto. Ostaggio delle beghe PD. A fondo siamo sempre a Giulianova di Paolo Vasanella sullo stallo dell'intervento all'imboccatura del porto. Giudiziaria due assoluzioni per il traffico di droga dalla Campania. Giuliesi erano finiti a processo in basso ambiente. Troppo costoso realizzare il centro di riuso. L'assessore Ruffini risponde alle critiche di Arboretti sul finanziamento perso. Pontile di Roseto. Siamo dunque a Roseto degli Abruzzi. Si arriva il milione promesso dalla Regione. D'Alfonso mette mano al portafogli finanziando l'intero progetto in cambio dei voti del PD Rosetano. Cronaca ma l'ora in casa gravissimo un 42enne di Pineto. E poi Natura in basso guardie ambientali alla riserva del Borsacchio. Espressa al Sindaco la volontà di collaborare con il gestore. Ci spostiamo ad Atri. D'Alfonso contestato per la tragedia di Rigopiano. Proteste all'incontro elettorale nell'auditorium dove si sono celebrati i funerali di tre vittime del disastro. E poi Atri. Alle scuole elementari il cantiere ancora fermo nonostante le promesse. Cultura, scrittore custode delle metamorfosi. Da Tiresia a Narcisio, Ovidio fra Thomas Stern, Elliot Huggs e Annei. Questo è l'articolo del professor Dante Marianacci sulla pagina di cultura del quotidiano Terramano. E poi le prospettive nell'istruzione La scommessa del futuro. Stefano Cianciotta parla del libro scritto con Alberto Brambilla. Serve un nuovo ecosistema che accolga i talenti. E in questo articolo c'è proprio l'intervista a Stefano Cianciotta, professore Terramano, che ha scritto questo libro di cui si parla in questo articolo a pagina 20. Lo sport si parla del Teramo come sempre sul quotidiano La città. Il Diavolo si affida all'alleato Stadio Bonolis, i quattro successi in stagione ottenuti tutti nell'impianto di Piano Daccio. Baras salta Bassano e Padova. In basso il basket Super Amicacci Giulianova, Cantuva K.O. dopo 40 minuti di battaglia. Siamo alle pagine dello sport del centro. Il Pescara che si affida a Campagnaro per la difesa. Ci siamo anche noi per la Serie A. L'Argentino dice che a livello tecnico l'organico non è inferiore a quello del 2015-2016, ma ci sono giovani che devono ancora crescere tatticamente. Ma ieri c'è stata anche la conferenza stampa del presidente Sebastiani e del ormai ex giocatore Guglielmo Stendardo, che ha annunciato l'addio al calcio. Resterà a Pescara, probabilmente avrà un nuovo incarico all'interno della società Biancazzurra. La conferenza stampa di ieri è stata anche l'occasione per il presidente del Pescara Daniele Sebastiani di fare il punto sul campionato e di precisare nuovamente la fiducia della società nel tecnico Zeman, che deve però cercare di centrare a tutti i costi il piazzamento playoff. Abbiamo portato i nostri microfoni il presidente Sebastiani. Vediamo l'intervista. Conferenza stampa per annunciare l'addio al calcio giocato di Guglielmo Stendardo. Presidente, è stata anche l'occasione per parlare del Pescara del campionato, anche alla vigilia di queste due gare casalinghe con Cremonese e Carpi. Diceva qualche istante fa, ho fiducia in Zeman, se così non fosse stato lo avrei già mandato via. Eh certo, è evidente la fiducia che ho nei confronti di questo allenatore. Sapete bene la stima che ho personalmente verso il tecnico Boemo, ma fosse stato diverso sicuramente noi staremo qui ancora a parlare di Zeman. Si parla tanto di squadra poco zemaniana, lei ha detto che questo non significa niente, perché ci sono tanti giocatori che per caratteristiche forse non sono adatti al calcio di Zeman e hanno fatto benissimo in passato con il Boemo. Ma sì, ma a me mi viene da sorridere, perché qui il calcio zemaniano è quando le cose vanno bene, quando le cose non vanno bene non è il calcio zemaniano. Io penso che il mister metta sempre lo stesso impegno in tutto quello che fa dalla mattina alla sera, poi dopo ci sono delle partite dove tu puoi fare un certo tipo di gioco, sono delle partite dove magari gli stessi giocatori in campo si adeguano al tipo di partita e magari sembra una squadra che non è così zemaniana, ma a mio avviso questi sono giocatori che hanno tutti quanti le caratteristiche per poter giocare con questo allenatore, perché se cominciamo a partire dal portiere per passare per i quattro terzini che abbiamo, sono tutti giocatori che hanno più propensione ad attaccare e non a difendere, così come anche i centrali, quelli più giovani soprattutto. A centrocampo abbiamo tutti i giovani che hanno voglia, gamba, fisico per poter fare quel tipo di gioco e in avanti è chiaro che dobbiamo cercare di fare più gol, perché la squadra di Zeman normalmente fa più gol, però questo dipende anche un po' dalle defezioni che abbiamo avuto fino ad adesso. Adesso siamo quasi tutti e quindi la condizione man mano che si va avanti cresce sempre, perché il lavoro che fa il mister è un lavoro enorme e quindi mi auguro che nelle prossime settimane cominciamo a vedere una squadra, anche come dite voi, più zemaniana, anche se io non capisco cosa significa la squadra zemaniana. Nei prossimi 20 giorni si decide gran parte del campionato del Pescara? Sì, soprattutto perché incontriamo squadre che sono lì davanti a noi e quindi dovremmo dimostrare di essere all'altezza, è chiaro. Parliamo del Teramo, Fratangelo vuole una chance dal primo minuto contro il Bassano, vedete il titolo, l'attaccante si candida per una maglia da titolare, due turni di squalifica Varas, Speranza in gruppo. Vediamo ancora titoli che riguardano il calcio, eccellenza Giulianova via alla scalata alla Coppa, Alfadini l'andata della prima fase interregionale con la formazione molisana del Vasto Girardi, i protagonisti del calcio direttantistico abruzzese in questa doppia pagina del mercoledì, e poi il ciclismo con l'Under 23, Bevilacqua riparte con una squadra giovane e ambiziosa, anche l'ex sprinter Petacchi alla presentazione di Roseto. A giugno la gara di mountain bike, Apritum Race, e poi a centropagina atletica, Caporrella agli assoluti, nel fine settimana a Rieti, campionati invernali dei lanci lunghi, e poi calcio a 5 per sordi, da venerdì la Final Eight a Pescara. Questa era l'ultima pagina dello sport del centro, andiamo a vedere le pagine dello sport, del messaggero, Stendardo Lascia, grazie Pescara, ieri il 37enne ex difensore centrale ha annunciato il ritiro dalle scene agonistiche, dispiace non aver potuto dare un contributo più sostanzioso, mi auguro di restare nel club. Leggiamo qualche pagina, qualche rigo, diciamo, in questa pagina sull'intervista rilasciata ieri, che poi vi proporremo anche nel corso dei nostri TG di Stendardo, il calcio sarà pure una parentesi, seppur importante della mia vita, così Stendardo, che poi ha parlato dell'ottimo rapporto avuto con Pescara e con la società Bianca Azzura, ringrazio Pescara, ha detto ieri Stendardo, e tutta la tifoseria, mi dispiace non aver potuto dare un contributo, abbiamo raggiunto un accordo con la società, mi auguro che ci sia ancora un futuro insieme, ringrazio il Presidente per l'onestà e la sincerità con cui si è sempre rapportato, smetto e chiudo con il calcio giocato, ma non vado via da Pescara, resterò a vivere in città, una città nella quale mi trovo a meraviglia, stavo preparando questa uscita da tempo, mi interessa di più il rapporto con il Presidente, che aspettare la scadenza del contratto, sono avvocato, in futuro vorrei tutelare gli interessi dei calciatori, questo è uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate ieri da Stendardo, proprio in occasione della conferenza stampa in cui ha annunciato il suo dio al calcio, Stendardo che dovrebbe fare da grande in un futuro prossimo il Procuratore, ma Stendardo si è anche augurato di poter restare nel club con un nuovo incarico. E poi si parla di calcio giocato, il Pescara con Yam Gha ancora secco di gol, ma il giocatore ex Chievo dice la rete, gol, arriverà Yam Gha, che è stato protagonista sfortunato nella gara di Chiavari, dove per un paio di volte è andato vicinissimo alla rete dell'1-0. A proposito del Pescara, leggiamo anche qualcosa sul notiziario dell'allenamento dei Biancazzurri, ieri doppia seduta al Poggio degli Ulivi, Falco è ormai pienamente recuperato, l'ex Perugino potrebbe essere convocato a questo punto per la gara di sabato con la Cremonese, invece Proietti non è ancora al meglio, ma saranno decisivi i prossimi allenamenti per capire se potrà essere a disposizione per la gara con i grigiorossi. E intanto andiamo a vedere quello che accade in casa Lombardi, il capitano Brighenti uscito in anticipo contro il Bari, si è fermato per uno sospetto stiramento, salterà la gara di sabato a Pescara, tesser tecnico della Cremonese ritrova il bomber brasiliano Paoligno, in attacco scalpita anche il baby Scuola Roma Scamacca, arrivato a gennaio in prestito dal Sassuolo. E dal calcio passiamo al MotoGP, stop test a Buriman, i dubbi di Annone, questi giorni su una nuova pista sono stati comunque positivi, anche se non sono soddisfatto al 100%, ha detto il pilota bastese della MotoGP. Siamo alla seconda pagina di sport del messaggero, il basket Sharks gioisce ma perde Lupusor per la trasferta di Imola, dopo la vittoria con Bergamo, un altro infortunio per un giocatore della formazione rosetana. Ricordiamo che il Roseto è ultimo in classifica nel campionato di A2, ma nell'ultimo turno ha battuto Bergamo e in virtù della differenza canestri e scontri diretti, la formazione rosetana è ultima come punteggio insieme ad Orzinuovi e Bergamo, ma non ultima proprio per il vantaggio negli scontri diretti e tutti attendono la prima vittoria in trasferta, che i tifosi si augurano possa arrivare dalla trasferta in terra imolese. Torniamo al calcio, parliamo di Teramo, Teramo punto ok, ma serve continuità, parla il direttore generale della società Biancorossa, il pari di Salò, Famorale, ma per la svolta c'è bisogno di altro, a Bassano, dubbio panico, che si è allenato a parte. Parliamo poi di Serie D dell'A, qui la vediamo questo titolo, Gagliardini torna ad allenarsi con la formazione rosso-blu reduce dalla sconfitta di Castel Fidardo. E poi l'eccellenza, il calcio di eccellenza, quella di oggi è una giornata importante per il Giulianova in Coppa Italia, la formazione giallorossa affronta il basto Girardi, l'appuntamento alle 14.30, con la gara contro la formazione molisana, il tecnico Piccioni fa turnover. Vediamo altri titoli che riguardano in questo caso soprattutto la pallanuoto, perché per i club di Pescara doppio KO nell'ultimo turno, sabato arriva il waterpolo Bari. Per quanto riguarda la Serie A2 maschile, c'è stata la sconfitta per 10-7 per i pescaresi nell'ultima giornata di campionato in A2 donne, quinta partita e quinto KO per la formazione pescarese, ma questa volta, a differenza delle altre partite, si è visto qualcosa in più con le ragazze del Settebello Biancazzurro sconfitte in casa dal Flegreo con il punteggio di 13-9. Possiamo andare a vedere, prima di chiudere, come sempre, i titoli e le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, Dai e Roma, Aia Conte, Anders, Fidal o Shakhtar, questa sera giallorossi impegnati in Ucraina, Messi, Gela e il Chelsea, finisce 1-1. E poi campioni omaggio, Balotelli, De Vrij, Khan, Reina a costo zero, giocatori che fanno gola a tante formazioni. E poi si parla del Milan, Mister Lee, Milan o risorse sane e buon anno. Il Presidente dice ultime notizie irresponsabili, dopo le notizie apparse negli ultimi giorni su diversi organi di stampa, la FIGC vigila sulla situazione della società rossonera. Siamo al Corriere dello Sport, Roma al gelo per l'impresa, Champions questa sera incontro in trasferta contro lo Shakhtar Donest, inizio fissato per le 20.45. Poi Chelsea, Beffa, Messi, Gol e Conte si infuria 1-1 tra Chelsea e Barcellona. Scusate, si parla di Inter a centro pagina, le spallate di Spalletti, parla il tecnico della formazione nera-azzurra in un'intervista esclusiva sul Corriere dello Sport a tutto campo, sull'Inter. Ma non solo. E poi il mercato, abbiamo visto anche dalla Gazzetta dello Sport, asta per De Vrij con il giocatore della Lazio che potrebbe andare proprio all'Inter. E poi Juve nel futuro Eccohan a luglio, mentre Napoli è arrivato Milic, terzino per Sarri. Chiudiamo con tutto sport, Toro devi fidarti con Mazzarri puoi, intervista all'ex Granata Rolando Bianchi. E poi a centro pagina Juve, Febbre, Florenzi, il romanista in forze, per il match di stasera con lo Shakhtar. Questo era l'ultimo titolo, questo è l'ultimo giornale preso in esame oggi nel corso della nostra consueta rassegna stampa. Mattino 6 finisce qui, io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito, vi ricordo che Mattino 6 tornerà domani puntuale alle 8. Il prossimo appuntamento informativo della nostra rete, invece come sempre, fissato per le ore 14 per la prima edizione del TG6. Grazie per averci seguito, un augurio di una serena giornata. Grazie per averci seguito, un augurio di una serena giornata. Grazie per averci seguito, un augurio di una serena giornata.